Conosci i tuoi campioni su Sportiva, la scheda del tuo idolo. Attaccante potente, con una grande tecnica individuale e un colpo di testa spesso vincente. Erano queste le caratteristiche principali di Roberto Bettega, nato a Torino nel 1950 e un'intera carriera passata nelle file della Juventus con una parentesi al Varese in prestito. In 13 stagioni con la casacca bianconera, dal 70 all'83, Bobby Goll ha conquistato 7 scudetti e una Coppa UEFA, quest'ultima vinta con un suo gol decisivo a Bilbao. Nonostante una grave forma di pleurite, Bettega ha segnato oltre 200 gol in carriera, tra cui uno di tacco al Milan e uno di testa in tuffo all'Inghilterra. Titolare inamovibile in nazionale con Bearzot, non ha partecipato al Mondiale dell'82 per i postumi di un grave infortunio al ginocchio. Dopo il ritiro, Bettega è stata una delle prime voci tecniche nelle telecronache prima di rientrare alla Juventus come dirigente, lasciando il club nel 2010 e tornando in tv come opinionista.